La sezione misure di prevenzione del Tribunale di Caltanissetta ha emesso su proposta del questore Pinuccio Alberti Nagnello un decreto di sorveglianza speciale per un 46enne pregiudicato di Gela con obbligo di brezzeletto elettronico per un anno e sei mesi. L'uomo, già sorvegliato speciale fino al 2017, attualmente agli arresti domiciliari, è stato arrestato a gennaio per atti persecutori verso l'ex compagna, molti trattamenti ad attuale convivente e persecuzioni verso il padre di quest'ultima ha anche pubblicato video minacciosi online e ha aggredito fisicamente le sue vittime.